Perciò è con orgoglio veramente che presento questa nuova scuola talentosissima e la scuola è Alchemy Dance Studio di Tolentino e i rappresentanti maestri sono Francesco Ciccarelli e Alessia Tiberi. Questa sera Francesco vi dedica il suo personalissimo show è Salsa Shine dal titolo Lo che Siento, a voi Francesco Ciccarelli Grazie a tutti. 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 Lo che Siento, Francesco Ciccarelli